Eccoci qua da Sandro Cano, purtroppo sarà un continuo di copyright claim qua, perché c'è la musica, il bar, comunque questo è lo stupendo opposto, si chiama Surf Bar, è stupendo, guardate che roba, Surf Bar, qua sulla riva qua di Cisano, là c'è Bardolino, là c'è Garda, e là su si va, sull'alto lago, Castelletto, Torri del Menaco, Malcesine, Brenzone, stupendo, faccio l'odore del lago, fantastico, adesso io prendo il mio mezzo e vado a casa, ah non leggiano anche il super Icaia, che fantastico, guardate che roba, e c'è anche la scuola, sembra, Take away 24 ore, 90 euro e 300 di deposito, per due giorni 150 euro, da portare via il kayak, oh, no, il Sup, interessantissimo, guardate che bello, lago di Garda ragazzi, stupendo, Allora, adesso torno sul mio Angelico Coupé, e faccio un giro qua, vi mostrerò un po' di robe, oggi ho fatto il mio part time, la mattina, tra poco comincio la terapia, e sei il mio, però, vedremo, dai, ma, le cose stanno andando un po' meglio, diciamo, dai, c'è un caldo visio, però c'è tutto un altro clima che, che, che quello che c'è su, ai proni di Fumane, ma, insomma, volete mettere, lago, ok, belli i proni, bello il lago, se venite a Verona, avete tutto, montagna, lago, città storica, il fiume, il secondo fiume più grande d'Italia, l'Adige, e, non vi manca niente, noi ci vediamo al prossimo video, video, cascate, ruscelli, parapendi, piste da scine inverno, qua sul Monte Baldo, funi vie girevoli, avete tutto qua a Verona e provincia, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, vi saluto, e ciao ciao, montiamo sul nostro Angelico Coupé, e andiamo all'avventura, ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando, se volete supportarmi, offrendomi un caffè, nella descrizione c'è il mio Paypal.me, ciao ciao!